Idea, la trasmissione di RTV38 che vi segnala gli eventi più interessanti e degni di nota della nostra regione. Iniziamo subito con alcuni appuntamenti da non perdere. A Firenze è esposta la mostra fotografica Popoli in Movimento di Francesco Malavolta. Vediamo quali sono gli altri eventi in Toscana. Palazzo Strozzi a Firenze ospita la mostra Nascita di una nazione tra Guttuso, Fontana e Schifano. Altre idee per questo fine settimana. Al cinema il film d'azione Hurricane, Allerta Uragano. È tutto, alla prossima puntata di Idea, la Toscana da vivere.